A me dispiace per Ricoletto, perché Ricoletto è una persona che io comunque considero una persona per bene e comunque considero un europeista che ha tenuto anche la barra dritta sulle questioni di politica estera e questo mi va riconosciuto, ma giuro che da lì in poi io non ho capito niente di quello che voleva fare, con chi lo voleva fare e come voleva fare. E questo non migliorerà, perché il Partito Democratico ormai ha dentro una pulsione populista che è fortissima e che non riesce assolutamente a separare dal pezzo di cultura di governo, che è quello anche di alcuni sindaci, bravi anche pure. Questo equivoco nel Partito Democratico non si può più sciogliere in un senso o in un altro, perché quello che fanno è pensare di poter tenere tutto dentro dicendo noi siamo uguali e quindi andiamo dalla taverna alla polina e non può funzionare. Quindi penso che quella è un'altra situazione destinata a esplodere.